Bella sta Roma, una bomba frate, ma ormai è un aspettare la prossima stagione, sperando nel meglio, non so se ci sono altri romanisti come me che la stanno vivendo in questo modo, però ormai è letteralmente aspettare la prossima stagione, si apre subito? Così per il meme? Vai. Giordi Alba, ma manco male, manco male, manco male, se non fosse che mori da sicuro nell'aggiornamento Toz, me lo ridà paro paro regà, anzi per rendermi felice mi dai tipo Suarez, allora che apriamo prima? Apro prima il 20 giocatori 84 o più ragazzi, vai. Quattro Toz, brutti però eh, dai frate dai dai, dammi il ca... Uruguay voi, Uruguay! Non voglio vedere, non voglio vedere! No regà, questo è Fetir. Anzi ce l'ho già. Vai, let's go, apriamo sti Toz garantiti va. Col mento di nuovo! Cazzo, col mento, urlo dello Stinks. L'ultima volta non ha portato benissimo però. Zanumento! Anzi un Messi lo troviamo dai, uno. Francia? C'è bloccato pure un share play, che kunde. Beh, spero che vi piaccia in casa. Speriamo bene. Oh! Alla faccia del cazzo eh! Nice! Vai! Sarà disponibile un'altra, diversa da quella che abbiamo fatto. Spagna. Terzino sinistro, Jordi Alba. Sì! Vabbè o almeno non ci ha dato Gerard Moreno, poteva andare peggio. Per ora comunque tre Toz, tre Toz diversi eh. Per dire. Poteva andare molto peggio, poteva andare. Però io ho detto, io quello che voglio fare è una collaborazione. E fare una collaborazione intendo proprio tipo una collezione. Spagna. Cici. Llorente. Buono Llorente. Oh madonna! Vai, apro prima l'81+. Eh, vediamo pure che troviamo, perché se troviamo qualcosa di interessante poi al massimo switch. Toz, ok. Oblak. Eh, 96 comunque, manco male. Manco male. Gerard Moreno. Eh. Vabbè, per essere l'81+, in realtà è andata pure del lusso. Cioè, è un pacco pure della madonna per essere l'81+. 25-83, vai cazzo! Blu pure questo. Schifo. Schifo totale questo, mamma mia. Adal, 0-25. 20-84+, vai. Non mi importa niente se piangi. Vabbè, tutti tozzi, questo è l'importante. No, un altro Oblak. Non mi importa niente. Ah, regà, un altro Oblak. Che tiltata però, frate. Che tiltata, mamma mia. È molto tozza la liga. Ah sì, se c'è un altro Oblak, impazzisco. Un altro Oblak, regà, impazzisco. Begir. Ma no, ce l'avevi squadra. Oh, vabbè, buono! Era scambiabile. Buono, buono, buono così. Almeno tu lo rivendi. Manco male. Eh, guarda, in realtà, secondo me non è andata benissimo. Poteva andare molto meglio. Onestamente. Vai, 25-83+, let's go. Mamma mia. Manca il tozzo, baccalà. Che schifo! Mamma mia, che sbocco! Dannato baccalà, prod by baccalà. Magari torna Diddy. Non mi importa niente se piangi. Te prego, Maldini. Te prego, Paolo. Te prego, Paolo. Porco Dio, Nesta! Lugazzi! Ma regà, Alessandro Nesta, se posso dire, palesemente pelato. Palesemente pelato, Nesta. Apprezzo lo scarto di Nesta. Lo apprezzo. Penso, però, fino ad oggi, cioè, i toz più trovati fanno parte della Liga, eh. Sono stati trovati tutti sta settimana. Tutti. Ma da tutti. Francia. Ciocci, Fekir. Vabbè, dai. Manco malaccio. No, 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 no. I'm actually pissed. I'm pissed. I'm open more packs. I swear to God. Guys, I feel like this game is like a, it's like a pay to win simulator. Just open packs all day, dude. And honestly, I just remember whenever I played this game. I thought I had opening packs. Yeah, man. The game is a 10 out of 10 by a long shot. But, fuck man. Ma true de gay? True de gay? Ma quale pay to win? Porco Dio. FIFA è un pay to lose. Anzi, non è neanche un pay to lose. È un pay to play. Punto. E quando ha giocato, l'unica cosa divertente che ha trovato divertente di FIFA è stato aprire le pacchie. non c'è posto sta. Vai. Spagna. Terzino destro. Abbiamo cambiato fascia. Abbiamo cambiato. Esus Navas, un po' per memare. Un altro terzino. Ce n'hai 40 in difesa. Vai. Giocatore tozza liga. Ma Lewandowski non è meta, regà. Parlamo se è chiaro. Cioè, il Todi non lo usa nessuno. Carrasco. Manco malaccio, però a me non è piaciuto, ad esempio. Vai. 81 25. Meme de quell'avostadio, regà. Che sbocco. Si opera. Vai. Non è andato benissimo, ecco. Non è andata benissimo, però Lucas Vasquez è caruccio. Vai. You thought that it was special. Oh, Caseriro. Vabbè, è buono. Oh, vabbè, per pacco. GG. Vai. Che cazzo ci esce? Oblac. E insomma. Tocca Pristicon, quindi, me stai a dire, eh. Tocca Pristicon. Oh, ne grazie di 100. Ciao, bello mio. Buonasera. Buonasera, Kree. Vamo, raga. Bocca al lupo. Non mi importa niente se piaci. Please. Holy shit. Holy shit. È crashato sti cazzi. Gullit Prime, cazzo. Goloso. взhui. Piace. Mi. Tiil. 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 Șiil. Grazie a tutti.